PASSA UNA BUONA GIORNATA, STEWY Oh mio Dio, fa che sia un cane, fa che sia un cane! Oh mio Dio, è un bambino! È Doug! Ah ah, bel colpo! Oh oh, e guarda, ha le mutande di Elsa! Questa giornata va di bene e in meglio! Grazie innanzitutto di essere venuti. Sì, posso portarvi qualcosa da bere? Per me niente, ma la madre di Doug credo gradirebbe un triplo martini e poi fare sesso non protetto col suo capo al lavoro. E il padre di Doug gradirebbe un bicchiere d'acqua tiepida e non guadagnare più di 30.000 dollari l'anno per il resto della sua vita. Bene, e diamo inizio alle danze! Allora, sappiate che mi dispiace davvero molto per quanto è successo con Doug. Non l'ho proprio visto, il bambino. Forse è il caso che si faccia controllare la vista. Capisco che sia stato solo un incidente, signora Griffin, ma ci siamo comunque rivolti a un avvocato. Ci sarà pure un modo diverso da un'azione legale per farci perdonare. Beh, questo è il mio weekend con Doug, ma ho i biglietti per vedere l'ana del re con la nostra extata Jessica. Ha 24 anni. Quindi, come forma di accordo, ecco, nel weekend potreste costruire una casa sull'albero con cui non voglio avere a che fare. Bene, se è questo che devo fare per rimediare, Peter e i miei figli costruiranno la casa sull'albero per Doug. Andata. Oh, guarda il cane. Ma come si può portare un cane in una caffetteria? Io adoro i cani. Senza fargli una carezza. Vieni qui, bel cane. Oh, non lo trovi, dolcissimo. Ah, bravo, cagnolino. E vai, adesso la mia mano puzza di te. Sono davvero felice che anche tu ami i cani. Non potrai mai stare con qualcuno che odia i cani perché io li adoro. Ci piacciono le stesse cose non appena dici cosa ti piace. E dimmi, tu che cane hai? Che... ah, ah, che cane ho? Eh, sai, non ci ho mai fatto caso. Sono piuttosto attratto dal suo spirito. Oh, sono davvero speciali. E sai che c'è proprio dietro l'angolo? Lo strip club dove ti sputano in faccia? No, il parco per cani. Al prossimo appuntamento portiamo lì i nostri cani. Prossimo appuntamento? Ma certo! Ma alla buon'ora. Credevo si fosse detto alle dieci, ma forse si era detto dieci e diciotto. Poco male. Ma per il futuro assicuriamoci di rispettare gli orari a vicenda. Tu devi essere Chris. Bevo proprio? Sai, abbiamo un amico in comune, il signor Herbert. Come fai a conoscere il signor Herbert? Siamo amici. Alle volte viene alle mie mostre d'arte e dopo ci prendiamo un gelato. Fammi indovinare, ti porta al parco dove le altalene vanno alte alte? Esatto! Ah, ah, finirà presto. E quanto al gelato non ti ci abituare. Ne ho visti a migliaia come te e sono sopravvissuto a loro, sopravvivrò a te. Ok. Ah, mio padre le ha lasciato un biglietto, signor Griffin. Griffin, costruite la casa sull'albero per mio figlio. La amerà per un anno finché non ci si trasferirà la mia colfa, anche se non c'è energia elettrica e acqua corrente. È venuta qui a Pieti dal Guatemala, starà benone. E ora diamoci dentro, ragazzi. Grazie per avermi accompagnato. Mi serve un cane per il mio appuntamento, ma non ci capisco nulla. Nessun problema, ma ti avverto che passerò il tempo cercando di trovare il coraggio di prendere in braccio un'iguana. Eccola qui. Non credo di essere pronto. Mi scusi, quanto viene questo? Oh, è un barboncino di razza, perciò viene 1500 dollari. Per un cane? Qual è la vostra politica sui resi? Rimborso completo entro dieci giorni? Se non è interessato, dovrai togliere le feci dal pelo dei porcellini d'India con un panno bagnato. Coraggio, può anche toccarla. È ruvida! Mi dispiace che non hai trovato un cane. Entra, ci faremo tutte le birre che servono per dimenticare quanto è deprimente il canile. Vado a prendere le sovracitate birre. Grazie, calendario della parola del giorno. Ciao. Quagmire. Voglio dire, eccolo qui! Brian il cane! Che ti succede? Perché usi il mio nome per intero? Ok, non perdiamo tempo. Bene, andiamo al sodo. Ok, ascolta. Mi vedo con una donna e ha qualcosa di diverso. E non mi riferisco solo al sesso, che è fantastico, ma mi piace anche come persona. Il che, detto da me, può sembrare strano. Ad ogni modo, le ho detto che ho un cane, perciò faresti finta di essere il mio cane? Oh, bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Brian, andiamo. Sono serio. Mi dai una mano? Glenn Quagmire, non esistono abbastanza palle da tennis nel mondo che possano... Te ne dò sei. Accetto. Da non credere, il padre di Doug che messaggia per dirci di andare alla partita di baseball di Doug o ci fa causa? Staranno a masticare gomme Big League? Sì, ho visto che masticano con le gomme. Ah, il campo da baseball, quanti ricordi. Ho perso la mia virginità qui, con Jennifer Jason Lee, su quella panchina laggiù. Sarà stata fuori di testa? Beh, sarà stato fuori per lei, ma io ero bello dentro. Scusatemi. Che ne è del tuo famoso viaggio a Providence? Buongiorno, amici dello sport. Pronti ad assistere a un'antologia dell'eccellenza? Date un'occhiata qua. Ball one. Da qua, imbranato, tieni la balza così, avanza col piede e fai partire il colpo. Ce l'ho fatta! Grazie, signor Griffin. Io me ne vado. Su, Chris, non ti arrabbiare. I miei programmi sono cambiati. Oh, ciao, Doug. Mi prendi in giro? Carrie arriverà fra poco, mi aiuti a sbarazzarmi della roba del gatto. E il gatto dov'è finito? Non lo so, nessun padrone sa dov'è il suo gatto. Ok, ancora non capisco perché ti dai così da fare. Tanto finirei per mollarla e spezzarle il cuore. Come sta tuo figlio, Brian? Oh, che ne è stato del Defcon 4, 3 e 2? Ok, è qui. Giù dal divano. Chi è? La notte del giudizio, siamo qui per pestarti. In arrivo, una bella pizza con impasto alternativo. Oh, gnam gnam. La pizza con impasto alternativo è buonissima, non si sente la differenza. Perché, uomo, menti così a te stesso? Vuoi sapere la verità, Brian? Brian è il cane? Io l'amo. Hai sentito? L'amo. Tutto questo non apprezzo. Non mi divertivo così dalla volta del cimitero. Ti piace questo rumore? Prova a pulire questo ora che stai bruciando all'inferno. Peter, sei pronto per andare? Quasi. Oh, che vuol dire che non ti piace? Prima assaggialo, magari ti piace. Avevamo un accordo. Beh, l'accordo è saltato. Chiamerò io stesso tuo padre. No, non farlo. Ma cosa? Sei stato tu a farci fare tutte quelle cose. Ti sei preso gioco di noi, Doug. Prendiamolo. Papone, aiuto. Non sono papone, sono Pitti il pirata. Ma quante volte te lo devo dire? Perché l'hai fatto? Perché ci hai costretto a fare tutte quelle cose? Per questo. L'ho fatto per questo. Cosa? Cosa intendi dire? Non ce l'ho mai avuto un cane. Né un fratello. E neanche un padre, in realtà. Ma in questi giorni mi sono sentito come se li avessi avuti. Mi dispiace molto. Ma non conoscevo un altro modo per stare un po' con voi. Doug, eccoti qui. Grazie, addio. Ehi, ho avuto il messaggio. So che è aburtito. Allora, sabato sera? What a dick. Sai una cosa? Gli faccio la popò nelle scarpe. Tu faresti questo per me? Ci puoi giurare, amico. Aspetta un attimo, Brian. Si dai caso che abbia un colpo in canna. Mi unisco a te. Grazie, ragazzi. Vuoi sposarmi? Di che si tratta? Oh mio Dio, Glenn. Sì, sì. Certo che voglio sposarti. Mazzeltov. Mazzeltov. E questa come ti è venuta? Dalla fantastica signora Mazzeltov. Tu dovresti saperlo, Lois. Fidanzati? Oh, andiamo, Quagmire. Così mi uccidi, amico. Amore, tesoro, ti prego, non piangere. Ascolta, ogni coppia ha bisogno dei propri tempi. Questo non vuol dire che ti ami di meno. Che ne pensi se diamo un'occhiata agli anelli questo weekend? Non so, magari da Zales. È quello che possiamo permetterci, dato che solo uno lavora. Mi dispiace, non volevo e non dicevo sul serio. Oh, perché non ti unisci a noi per cena, disse rovinandosi la vita. Grazie.